Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a un gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi, davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in veste candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce, la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani, e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra, davanti al trono, e adorarono Dio dicendo Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazia, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse, questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli rispose, Signore mio, tu lo sai, e lui, sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Il Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, e lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica a se stesso, come Egli è puro. E' parola di Dio. Clamiamo il Vangelo con Alleluia, canto per Cristo, numero 131. Alleluia, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore, sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Dite la verità che stamattina avete lasciato il costume di Halloween accanto al letto. Ieri sera quando siete tornati a tarda ora e magari qualche signora nella borsetta avrà la maschera da zombie. Mi interessava fermarmi questa mattina su questa festa di Halloween. Io non credo che dietro ci siano chissà quali energie maligne. Si tratta più banalmente di una festa commerciale. L'associazione che riunisce i commercianti ha stimato in 192 milioni il giro di soldi che ruotano attorno alla festa di Halloween. Come se ciascuno di noi avesse speso ieri sera 25-30 euro. Un po' più al sud e un po' meno al nord. E dunque questa festa di Halloween è soprattutto una cosa che ci fa consumare. prima di tutto e ci riempie un po' di tristezza per questo perché è la società dei consumi che insomma invade ogni spazio e che ci costringe ad adeguarci a queste feste che create dal niente, che vivono sul niente ma che fruttano però molto. È un'occasione di consumo e chi consuma vive nella misura in cui consuma. E' la strategia del consumo che le persone non guardino al cielo. Perché chi guarda al cielo spera qualcosa di più. Chi ha gli occhi pieni di terra deve riempirsi di cose per sentirsi vivo. Ma forse più interessante è provare a scavare dentro a questa festa di Halloween che ha delle origini nobilissime. Inizialmente presso i Celti la festa di Halloween è il segno della trascendenza. E' la coscienza che la vita è fatta di due mondi. E' la coscienza di un al di là. Poi viene sporcata in qualche modo dall'attività commerciale e resa quella che conosciamo oggi. Ma anche oggi se noi proviamo a leggere questa festa troviamo due aspetti che ci fanno pensare. Il primo è quello senz'altro più appariscente. E' quello del macabro. E voi avete visto ieri sera o vedete sui rotocalchi anche le stelle del cinema. Non perdono occasione di vestirsi secondo lo stile di questa festa. Avete visto in giro gli zombie con le maschere orripilanti e poi cicatrici vari. La coltelleria della cucina è stata usata in tutti i modi attraverso il collo, nelle braccia, eccetera, ferite. E' il macabro. Dietro al quale che cosa ci sta? Dietro al macabro ci sta questa presunzione di qualche cosa di definitivo, della morte. Ed è questo che ci spaventa. E il secondo tratto della festa di Halloween è quello che si esprime quando le persone, inconsapevolmente certo, però si vestono da maghi, streghe, da fantasmi. E sono queste forze imponderabili, ingestibili, che ruotano attorno alla nostra vita. Sono queste forze che non possiamo conoscere e che non possiamo controllare. Che creano in fondo uno stato esistenziale nel quale noi siamo in pieno. Ed è lo stato esistenziale della insicurezza. Al fondo del quale c'è la paura. E l'insicurezza e la paura sono i peli che si rizzano quando vediamo all'orizzonte la morte. Ecco, forse la festa di Halloween vede proprio questo. E come reagisce la gente? Come reagiamo di fronte a queste cose che ci fanno paura? Nel solito, vecchio, classico modo. Ridendo. Prendendo in giro. Facendo festa. E' sempre stato così. E' sempre stato così. Dolcetto o scherzetto. Si trasforma tutto in un gioco. Si esorcizza la paura della morte. Facendo festa. E travestendo l'angoscia che c'è nei nostri cuori da spensieratezza. L'uomo quando non vuole pensare seriamente diventa spensierato. Anzi, si diverte. Ed è interessantissima l'etimologia di questa parola che viene dal latino. Divertere. Vuol dire tirar via gli occhi dal problema, dalla paura, dall'insicurezza. E guardare qualcos'altro. Lontano dagli occhi. Lontano dal cuore. Oggi, mai come oggi, la morte è spinta ai margini della nostra vita. Ne abbiamo paura. Non sappiamo decifrarla. E ne abbiamo paura e non sappiamo decifrarla. perché è una società che va scristianizzandosi. Che va orizzontalizzandosi. La vita è tutta qui. E quando finisce non c'è più niente. Ora capite, la festa di oggi, come ci fa respirare. La festa di oggi, quanta speranza che ci dona. I santi. Oggi noi contempliamo in un unico giorno, che cosa? Il paradiso. E' la festa del paradiso. E' quella che è la nostra meta. La festa dei santi non ci parla di cose macabre, orripilanti. Di cose che finiscono della morte. Ma ci parla invece di quando tutto ricomincia. E ricomincia nel modo più bello, più completo, più compiuto. Perché sotto il segno della risurrezione di Gesù. I santi sono coloro che sono stati fatti santi dalla forza del Signore. Nel cammino della vita. Attraverso le tribolazioni, le gioie, i dolori, le lacrime e i sorrisi di questa esistenza. Abbiamo la vita per imparare ad amare. E impariamo ad amare per essere un giorno con l'amore. Per essere in cielo, insieme con Gesù, con il Padre, con lo Spirito Santo. E tutti coloro che ci hanno preceduto. E tutti coloro che abbiamo amato. Oggi noi contempliamo il cielo pieno di anime, pieno di persone, pieno dei nostri cari, pieno di santi. Che hanno avuto una vita normale. Ma non hanno perso il tempo, non hanno perso le occasioni di voler bene. Hanno avuto cura per qualcuno. Per i loro figli, per il vicino di casa. Per le persone che hanno incontrato per la strada. Per la loro città. Per le tante occasioni che hanno avuto di amare. Essi hanno avuto la cura di metterci sempre un granello di Vangelo. Insieme ai loro limiti, alle loro fragilità, ai loro peccati. Sono quelli che sono stati resi santi. E i santi oggi, guardandoci dal cielo, ci ricordano e ci avvertono che la vita è un fatto serio. Non si può trasformarla in un gioco. La vita è un fatto serio che va preso sui seri. Io, che non può essere consumato. Finché si è giovani. Si bruciano le energie. Ci si dà dentro perché siamo giovani. Non si può consumare la vita. È un tesoro preziosissimo. Ci ricordano i santi che la vita non va dissipata. Nella trasgressione, nelle esperienze fortissime. Quelle dove bruci un sacco di sentimenti per sentirti vivo. Dove ti dedichi allo sballo e tutti hanno il proprio modo di sballare, di trasgredire. Ci ricordano che la vita non può essere sprecata sui falsi traguardi, sulle mete che prima ti illudono e poi ti deludono e ti lasciano a piedi e più povero di prima e più triste di prima. Ci ricordano che la meta nostra è il cielo. Torniamo a casa. Stiamo tornando verso la nostra casa. Il luogo da dove siamo usciti. Le mani di Dio. Il cuore del Signore. Noi siamo diretti lì. E allora oggi è la festa della speranza. È bellissima la prima lettura. Questa scena grandiosa del paradiso con l'agnello. E tutti coloro che sono stati resi candidi e puri dalla forza e dalla Pasqua dell'agnello. Non siamo, fratelli e sorelle, in balia del caso. La vita ci è data dalla providenza del Signore come occasione per imparare ad amare, per mettere i nostri piedi nelle orme di Gesù, il Beato per eccellenza, colui di cui parla il testo delle beatitudini. E allora chiediamo al Signore e ai Santi che si facciano nostri intercessori di poter anche noi aver cura di questo testo, di portarcelo appresso tutti i giorni, di vivere questa beatitudine che c'è nell'amare e nel vivere lo stile di vita di Gesù, camminando in questa vita con gli occhi rivolti al cielo per essere un giorno in compagnia dei Santi, di cui oggi facciamo memoria e ai quali oggi chiediamo la benedizione e la protezione.